A Val di Lana, in località Valle Mosso, dal prossimo primo marzo, sarà attivo un ambulatorio condiviso tra i pediatri di libera scelta e questo per garantire, senza alcuna interruzione del servizio, l'assistenza primaria ai bambini e alle famiglie della zona, seguiti dalla dottoressa Serena Mura, che tra breve si trasferirà in una zona vicina al suo domicilio. Si tratta di una soluzione provvisoria ma di qualità in attesa della disegnazione di un nuovo titolare e sono già state avviate, con la Regione Piemonte, le procedure per la copertura del posto nella zona di Valdilana che la direzione di distretto della S.L. di Biella auspica possa avvenire nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, la direzione di distretto e i pediatri di libera scelta, in accordo con l'amministrazione comunale, hanno definito un progetto temporaneo che garantirà nella Valle Mosso la presenza di un ambulatorio pediatrico tutti i giorni feriali nei locali utilizzati proprio dalla dottoressa Mura. E come già sta avvenendo con la dottoressa Mura, l'accesso all'ambulatorio avverrà esclusivamente su appuntamento tramite la segreteria distrettuale. A breve le famiglie interessate riceveranno comunque una lettera da parte dell'ASL di Biella con tutte le indicazioni necessarie per poter accedere all'ambulatorio.